niente bestemmie da adesso in poi niente niente parolacce 3 2 1 ciao ragazzi sono paletta e oggi sono qua anch'io a rocker tv per a lezione con sono passati veramente tanti grandi bassisti quindi io non parlerò di didattica cercherò di farvi capire come ci si può innamorare di uno strumento la canzone che vi ho fatto sentire prima anche se fatta alla paletta è la canzone dei queen è una canzone che veramente mi ha fatto capire l'importanza di questo strumento da tra l'altro quando eravamo piccolini cantavamo ma guarda che faccia tosta allora già ci piaceva comunque cantare queste cose qua poi dopo però sentivo che dentro quello che mi rimaneva era sempre questo ed era una bomba quindi da me imparerete veramente poco come suonare però imparerete tante cose che vi può trasmettere questo fantastico strumento quindi ci vediamo nelle prossime puntate di a lezione con